Questi giorni si parla della trasformazione della città di Pescara, si parte dalle aree di risulta Assessore Civitarese perché avete presentato un progetto di oltre 40 milioni di euro per ridisegnare questa zona centrale della città. Prevede sostanzialmente quello che noi chiamiamo il parco centrale, così sarà chiamata quest'opera ed è quello che è, un parco ricco di attrattive in cui c'è naturalmente una parte preponderante di vegetazione ma ci saranno anche attività ludiche, culturali, un parco che sia quello che ci vuole per rendere questa parte della città effettivamente il cuore pulsante dell'area metropolitana. Il costo effettivamente è di 42 milioni, di questi c'è una parte, una quota di circa 11 milioni di fondi del cosiddetto masterplan regionale, il resto è un finanziamento che si chiama finanza di progetto perché chi interviene, chi interverrà e si aggiudicherà la gara facendo un progetto che deve essere un progetto molto qualificante, molto bello, sarà giudicato da una commissione di esperti, poi dovrà gestire i parcheggi che verranno realizzati, che sono realizzati in piccola parte, 400 in interrato, gli altri su dei silos messi ai bordi dell'attuale era di risulta e quindi ai bordi del parco centrale e per il resto poi ci saranno naturalmente le opere di viabilità necessarie, il terminal dei bus extraurbani in interrato, quelli urbani invece in una porzione dell'area che è già oggetto di progettazione da parte di Tua con cui abbiamo fatto una concessione, il tutto anche in accordo con le ferrovie che approfittano di questa occasione, RFI e 100 stazioni per avviare la riqualificazione anche delle superfici della stazione. Da qui ai prossimi anni ci siamo dati come obiettivo strategico il 2027, 100 anni di Pescara, ma stiamo già lavorando da subito a questo obiettivo, un passaggio sostanziale dall'automobile inquinante e rumorosa al trasporto collettivo che passa dentro la città utilizzando sistemi moderni e naturalmente bicicletta e aree pedonali, quindi questa è la prospettiva verso cui andiamo, nella quale queste aree strategiche, la parte appunto del parco centrale, il polo sud della città che sono anche come si dice hubs della mobilità, è come se fossero appunto dei punti connettivi di questa nuova strategia della mobilità che cambierà il volto di Pescara.